Una ballerina intenta a volteggiare, tenuta in volo da un folto grappolo di palloncini. Il tutto tra musiche suggestive e giochi di luce. Ecco lo spettacolo dal titolo Molecole Show che lunedì sera ha tenuto centinaia di persone con il naso all'insù durante l'inaugurazione del primo stralcio della rinnovata Darsena Borghese di Fano. Sì, è un grande momento perché restituiamo alla città la Darsena Borghese nel suo massimo splendore. Con questa riqualificazione, questo recupero, ma soprattutto perché ha un valore non solo storico ma c'è un legame forte. E' in qualche maniera il porto antico della città che fa da cerniera col centro storico. E quindi si potrà passeggiare dalla piazza andando fino verso il mare passando per la Darsena. Un restyling, quello della Darsena, costato 405 mila euro tra restauro, illuminazione scenografica e la creazione della passeggiata romantica. Grande attenzione poi alla sicurezza per preservare un'area che anche di recente è stata a suo malgrado scenario di atti vandalici. Gli interventi all'interno di questo spazio sono stati di più natura. Natura architetturale perché siamo intervenuti in tutta la parte muraria, quindi legata a quelli che sono i passaggi pedonali, sia qui davanti alla discesa, davanti al bene monumentale, proprio superando quelle che sono le barriere architettoniche, proprio per favorire l'accessibilità a tutti, ma anche nella riqualificazione di tutte le parti murari delle cinte, sia sulla parte verso il punto del porto, ma anche proprio sul dorso del bene monumentale. Siamo intervenuti anche nelle scalinate, riqualificandole. Abbiamo riqualificato la passeggiata romantica con un materiale di levo celgiallo, che è aderente a quello che poi è la facciata e la qualità del monumento. Oltre questo invece c'è stata una riqualificazione di carattere luminoso, quindi abbiamo fatto un'illuminazione scenica, scenografica, architetturale, sia rivolta verso il bene che sul perimetro del monumento, scarpate comprese. Oltre questo c'è stato un rinverdimento delle scarpate, con delle piante autoctone, dei nuovi arredi, proprio per creare un luogo vivibile, accessibile a tutti. Non a caso abbiamo ottenuto per l'appunto anche un finanziamento da parte della regione, proprio per avvicinare le persone all'interno della zona porto. Per quanto riguarda la sicurezza ringraziamo la Lega Navale, perché ci ha già aiutato ad installare sei telecamere, che sono già state funzionali negli atti vandalici successi pochi giorni fa. È sicuramente un luogo che va preservato e se c'è un aiutino questo non guasta. È dunque tutto pronto per far sì che la Darsena torni a celebrare la storia e la cultura della marineria fanese. Ma è anche arrivato il momento che questo luogo così ammaliante recuperi la sua forte vocazione turistica. Un grande momento della città, una riqualificazione importante di uno dei luoghi più importanti del nostro patrimonio storico-culturale. La nostra parola d'ordine è emozionarsi e far emozionare, ed è per questo che oltre a una bellissima riqualificazione che rende merito veramente a questo momento, abbiamo pensato anche un videoracconto in questa grande parete che è alle mie spalle, che sta proprio sulla Darsena borghese, che sarà proprio un videoracconto oggi della Darsena storica, parlerà della storia della marineria e le sue genti, quindi saprà dare le giuste suggestioni e le giuste emozioni a chi durante le serate di quest'estate arriverà nella nostra città. In questo momento è uno spazio gestito magistralmente dall'Associazione Nazionale dei Marineri d'Italia, uno spazio dove avvengono una serie di mostre che parlano appunto della marineria, di tematiche legate alla pesca, appunto alle genti, alle nostre tradizioni, ma potrà anche essere luogo, visto questo bellissimo prato che è proprio di fronte alla marineria, come lo è già stato, luogo di eventi, di attività che possono valorizzare al meglio questo luogo. E a proposito di futuro, la rivoluzione della Darsena borghese di Fano è tutt'altro che conclusa. Questo è soltanto il primo intervento perché ne seguiranno altri due, già finanziati e già in progettazione, con un nuovo sottopasso che consenterà di arrivare a piedi fino al porto. Ma quello che mi preme sottolineare è che, a parte le suggestioni che questo luogo trasmettono alle persone, alle tantissime persone presenti oggi, ne sono una testimonianza, ma è la valorizzazione della città che si unisce ad altri recuperi e soprattutto al lavoro che faremo di valorizzazione di tutto il nostro lungomare, del nostro porto. Quindi questa sera veramente è uno spettacolo nello spettacolo e non nascondo una grande soddisfazione perché era uno degli obiettivi che avevo sin dall'inizio del mio primo mandato.